bomba questo è un nuovissimo video sono Gianmiki15 qui tornati per fare un road to arena 7 quindi cominciamo subito ragazzi voglio milioni di like solo adesso sto fermo fino a quando li metti allora lì di livello 6 siamo avvantaggiati però non lo sai perché l'ira di dio è la scarica al mio segnale scatenate l'inverno all'inferno e poi ok io spammo quindi vai vai e quindi quindi questo vi direi di puntare subito tanto quello non è un problem solving e noi mettiamo la furia potente che non facciamo troppi oh quanto danno bovato ma a me mi sento Mario Bros vai lui non mi ha toccato l'inverno vai mettiamo no aspettiamo un po' per questo fate però attenzione hai colpito il cassone allora questa è una canzone bellissima che ho scoperto grazie a Barnett's record e quindi questo eeeh raga ma però vedi c'è la fornace bella che bella oh è Mario Bros vabbè 1200 puntiamo aspettiamo che scala Lely Sears devo fare una tattica proprio che Mario Bros is real eeeh vai ecco la torre ecco la mora si è laggato tutto alla connessione del del bo sendi ma c'è la fornace bella no ok è morta vai eh volevi eh oh ma è raga sta glitch allora a me ha dato un colpettino di lag incredibile perchè vabbè vabbè allora ah questi bug no video bocchini allora spam no io ho la torre molto allora ho detto che io sono spammer dovete capire che io ho dei problemi proprio nella testa che non funzionano bene però cioè e allora gli abbiamo fatto anche l'altra torre me lo immagino perchè lui non sta più giocando ecco sta giocando e sta anche vincendo allora fate però attenzione no non mi ha scoppiato di testa questa cascina è epica è finita male infatti è finita malissimo che poi tutti quanti la cambiano tipo un cinopia adesso mi fanno eh beh belli spiritelli ok in teoria abbiamo vinto però vedete che la vado a perdere adesso vedete adesso come mettiamo un biscotto che lo vingerò ecco furia su furia va bene va bene oh mamma mia come siamo potenti piangi piangi creativo allora faremo tre partite oh tre partite ehm baule d'oro is the new baule super magico per me quindi questa è la prima battaglia cerchiamo di aprire il baule della coronza e ecco questo è di livello 7 ci sfonda praticamente allora infatti lo sto sputando sullo schermo che voi non potete vedere quindi vai dietro vediamo di spammers proprio quindi vai e senti tu bello amico gu amico gu poi non è più figo gu è andato di moda fate però attenzione ai colpi del basta adesso facciamo una mossa mossa vai olle no ho fatta la cacchiata mi no in realtà no 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 fornace fornace c'è vabbè altri due che dici che poi sono pochi questi ecco la è ma fatta la dos bastardia feedback ecco la è fatta la frittata allora io fermo i scheletrini con altri scheletrini che intelligenza voglio quindi io dando la mossa di prima io ormai gioco solo così quindi ecco scherzavo eh ma gli metto una frittata in bocca l'ha frittata ho detto volevo dire la fornace allora mori mori ok fate però attenzione hai colpi del coglio eh scusa eh vai 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 dai 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 ci godo come un maiale appena nato oh mi ha scelto davvero gu bello 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 gu bello gu mmm sto per mettere la fornace in attacco bella mossa fatela sempre mi raccomando mori si ma la scarica al 6 e come non è ecco eccala amo persa amo persa toii porca vabbè bu si vabbè questo tiene tss e sende amico amico butta il barile così proprio ci prendiamo la basta no è cala l'ha fatta frittata dai moriii ecco sono invengibili questi qui fate però attenzione hai colpi del cazzone questo lo voglio dire vai e daia no e daia no e non fa poi ci tiene la specchia porca i i i i i i i i nuova carta di crescere leggendaria ma non è che di nuovo è epica no xd avvene isria sendi amico 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 porca di quella miseria ed haino ciò mostro è tu muori male no è daia no ok facciamo la stessa amostra di prima che è servita proprio a niente noia no 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 non no 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 Porco Cerco di non dire cose Anche se poi c'è la censura che mi salva Meno 26 coppe Sto ca... Andando qua a muoreggende Un'altra Il livello seciso lo sfondiamo E quindi vai partiamo subito De cattiveria facciamo splittare gli arcieri amico amico mori pezzo de merda si 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 va bene va bene metto questo no 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 di pezzo de stronzo no mi fai una tenerezza arciere da solo poi allora quello che costa 3 e quello costa 2 quindi se noi facciamo noi dobbiamo stare attenti ai colpi del cassone mi fanno sempre paura vai forse gli abbiamo fatto non è vero perché sflescio amico 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 gu non è anche un italiano allora lui mi ha fatto la torre e questo ormai è proprio il cuore allora per l'attenzione per mettere la fornace in una posizione stra streus vai allora vai 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 senza furia perché noi siamo noi ok in realtà amico c'è pure il danno alla torre c'entra guaggia ma siete proprio fighi cioè vi sentite proprio oppi e quindi vai moschettieri livello 4 che voglio potenziare assolutamente perché eh perché si splittare gli arcieri ovviamente siete due veramente persone belle c'è proprio persone che hanno fatto che poi desidero sempre di fare una combo quindi vai perché volevo mettere la fornace più come la cimiteria proprio dai 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 la combo di prima dai 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 ti voglio carico dai cioè io gioco bene quando regista e gioco una schifezza non potete capire come gioco male quando e ma poiché ma forse perché sono potenziati forse eeeh olè non credo che sta giocando guarda 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 il tre corone mamma mia che bello che bello mo gioca dopo che ho fatto tre corone dove ho fatto tre corone mette gli sghi 30 coppe e slot ball ai piedi va bene va benissimo 6 7 8 9 l'ultima quando l'ho fatto 1 2 vabbè il segno quattro partiti no 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 questo è una cosa di merda perché tu non puoi annullare c'è c'è boh se non lo fa per sbaglio non bupia io provo sempre la tattica di prima che guaglio potente fate però attenzione ai colpi del cassone canzone proprio epico streghe stregone madonna mi senti mario bros immagino immagino come di fermo col buco col buco del culo li fermerò sti pezzi che merda fami dai fornace 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 dai fornace dai fornace dai fornace dai signor dai dai grande 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 partita allora sono in vantaggio quindi adesso provo la stessa mossa mossa la canzone che sento per come per fare una mossa ma di que di quelle proprio che ti devi senti male forse la riesca a uccidere forse lo riesca ma forse forse porca di quella miseria ok si troviamo ucciso perchè dai puntiamo alla stessa mossa di prima perchè noi siamo persone normali intanto quello penso alla torre oh eh mamma che nervoso allora vedo che quella torre è andata vabbè punto sull'altra torre io punto sull'altra torre e io punto sull'altra torre inferna ho fatto una mossa molto no lo devo fare per forza so che non è proprio la cosa più inutile però almeno fanno meno danno è andato quel giocante mi sta dando no dai dai no miseria ladra dai non morite no no godo con un maialino vabbè intanto quella torre è andata oh ti prego si come godo con come ma adesso difendo adesso metto mamma mi fa una paura voglio eh paura non ho affatto però eh adesso non gioco più perchè ho 35 secondi di agoni allora io la io so che non si fa ma io la strega la fermo con gli scheletrini e poi perchè non si dovrebbe fare che è una cosa proprio oh due moschettieri cioè proprio ci sentiamo proprio persone normali allora poi ditemi porca di quella putt no allora va bene va bene va bene ah cretino bastardo deficiente porca putt no 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 bastardo godo con lecca culo per tua mamma dai 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 no senti basta ho rotto le palpebre ok mamma mia che bello che bello che bello io provo la stessa mia mossa che poi è diventata antipatica adesso ma non è vero che oh 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 fi ah non le ha mai messi gli scheletrini questa partita li metto solo quando metto vabbè 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 sei com'è un amatore di cinghiali che muore subito perchè secondo me noi dobbiamo sempre sprecare allora sei un bastardo giochi solo così vabbè che anche io non possiamo parlare di me vai 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 sfonda tutto ma va là vai vai sfonda tutto non dai dai cosfondiamo tutto cosfondiamo tutto proviamo la mossa di prima allora quello non è un problema allora sei il facciatore adesso grido male butto la sedia a terra e sentirete il rumore talmente tanto che ok mi siete salvati no 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 porca di quella io non voglio il pareggio no tu schifo però eravamo a 9 quindi 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 apriamo il baule della coronza e se non troviamo niente io spacco tutto e poi sentirete il rumore talmente forte che le cuffie di youtube si scollegherà Cristina d'avena quindi apriamolo subito non troveremo niente voglio che poi è bello che se troviamo qualcosa io lo spacco lo stesso caso cioè non è che grazie quattro gemme è proprio no 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 ma schifo oh eh eh no guaglio non potete capire che nervosismo spacco casa guarda porca di quella miseria sfondo tutto però per questo video c'è niente da dire veramente mario bros veramente una persona bellissima e il problema è che ci vorrà tanto per arrivare nella sette non arriveremo mai nella vita perchè se io tre ne vinco e quattro ne perdono ne perdono poi non è la cosa più opportunamente vabbè comunque io mi sto esaurendo quindi per questo video è tutto sto esplodendo una bomba a casa mia e ci vediamo al prossimo video e ciao Ciao